Ci troviamo a Cagli dell'Umbria, siamo venuti a trovare il nostro amico Fra Elia e siamo qui in questo bellissimo presepe che vorrei qualcosa che ci racconti tu meglio di tutti Fra Elia. La storia di questo presepe e tutto il tuo impegno di tutto l'anno per fare questo bellissimo presepe. Il presepe l'ho fatto in dieci giorni, il presepe rappresenta ogni famiglia di tutti noi quotidiana, è bello il presepe e chi lo fa lo deve saper vivere pure, perché vivendo con il presepe si riesce a capire quanto è grande l'amore di Dio, che alla fin fine si riporta sempre alla rinascita del nostro Signore. non c'è più la sopportazione, non c'è più l'amore quello di una volta, di sopportarsi di volersi bene. Oggi dopo 48 ore o tre mesi abbiamo subito la valigia pronta, ma alla fin fine che cosa si è concluso? Nella vita nulla, perché nella famiglia bisogna parlare, bisogna dialogare, bisogna dire tutto quello che tu pensi nel cuore e se non c'è dialogo che famiglia è. Ecco perché la famiglia viene rappresentata di poveri, grandi e tutti nell'unione, ma ci deve essere sempre la grazia di Dio. Senza Dio, l'uomo che cos'è? Infatti io pensavo a questo presepe perché ogni anno mi porta a venire a trovarti, oltre che vengono sempre nella tua grande amicizia, però questo presepe ti dà tanta serenità, ti dà tanta voglia di andare avanti, quello che purtroppo mi dice fra Elia tu, sai meglio di me, che oggi ci sono le guerre, ci sono tante cose e dimmi tu quello che pensi di tutte queste cose. C'erano, ci sono, ci saranno e con la pace sempre del Signore ci saranno sempre, perché da quando c'è stato sempre Lui queste guerre sono sempre esistite, sono sempre... la pace ci sarà, ma la pace la dobbiamo chiedere noi, la dobbiamo fare il passo prima noi, a dire Signore, facci cambiare e facci volerci di più bene e avere la sopportazione, se non abbiamo la sopportazione, che famiglia siamo? Se non abbiamo dialogo, che famiglia siamo? Siamo delle mummie. Oggi come oggi, anche la crisi nel mondo è voluta sempre da questa poco pace, questa pace che invece tu ci insegni e nelle tue parole ogni giorno ci porti avanti e cerchi di portarla avanti. Come mai, anche perché, secondo te tutta questa guerra, che cosa ci porta ad andare avanti in queste guerre quando invece tu sei con lui che credi dalla pace tutti i giorni? Io ti rispondo con una parola. Allora, disse il Signore, dai a Cesare quello che è di Cesare, dai a Dio quello che è di Dio, perché i potenti quando non hanno il Dio dentro, non hanno Dio, l'amore di Dio nel loro cuore, non potranno mai vedere quello che devono camminare, mentre invece tutti camminano per loro e loro tra di loro. a te hanno mai pensato, ti hanno mai portato un pezzo di pane, ti hanno mai portato per dirti, oggi ti portiamo da Dio, hai mai bevuto al fianco di Dio? E quando eri sola, chi ti ha consolato? Mi ha consolato la fede. Ah, è questa. La fede quando sono venuta da te, tu che con le tue parole mi hai sentito. E questa è la grazia di Dio. Ecco. Questa è la fede, quello che sempre fra Elia ha una parola per tutti. Qui arrivano da tutta Italia, ma anche da fuori Italia. Da tutto il mondo. Da tutto il mondo. Fra Elia è chiamato ad aiutare con le sue parole semplici, ma di grande umanità, tutti coloro che entrano in questo convento. Tra Elia però ha avuto anche grandi battaglie per poter entrare in questo convento. Lui mi sorride perché sa che con la nostra grande amicizia sai di cosa... Sai la verità, sai di tutto perché ti ho detto sempre la verità. Perché qua per fare qualche cosa abbiamo, non combattuto come si dice, ostacoli. Ma ostacoli da... Che a me mi piace raccontarli in giro perché per dire, guardate, che non siete voi soltanto a chi vi mette gli ostacoli, ma ce li mettono pure a noi quando abbiamo le porte chiuse. Più a quelli che hanno le porte chiuse che a chi ha il portone aperto. Sono questi gli ostacoli. Comunque. Però tu hai sempre la porta aperta per tutti. Per tutti. Sempre. Io sono anni che vengo da te, non solo quando hai i momenti che sono, i momenti dove tu incontri le persone, le genti che arrivano, ma tu anche se arriva una persona all'improvviso hai sempre... Se hai un piccolo boccone lo hai sempre per tutti. Per tutti. Le parole sono sempre per tutti. E questo penso, e tu io lo so, stiamo parlando da amici, ma che tu l'hai avuto sempre anche da bambino. Da bambino quando ti hai capito veramente di quello che stai facendo e qual è la tua missione di vita? Da bambino non avevo capito nulla, perché neanche i miei genitori avevano capito perché si andava avanti da dottori, dottori, medici, e quando si arrivava in periodo di Pasqua diceva i dottori mi ripidavano in due parole, dicevano il Signore e il suo figlio ai momenti le ore contate, e ogni anno avevo un vestitino uno diverso dall'altro. E poi dopo il giorno dell'angelo stavo bene, vai a capire come vai, e queste cose qua mano a mano, pian piano, e tutto si è, e dopo si è rivelato quello che il Signore ci ha dato. Infatti tante sono le persone che ti vengono a trovare. Io sono una di quelli onorati che durante quel periodo pasquale posso venirti a trovare perché onorata e chiamata da te e chiamata dal Signore. Per questo ti lo sai che per me io ti ringrazierò sempre. In effetti vedere Fra Elia oggi così serena e tranquilla, ma anche in quei momenti Fra Elia è sempre sereno e tranquillo perché Fra Elia porta in sé la fede e quella che è la sua missione, quello che il Signore vuole da lui e quello che il Signore vuole da Fra Elia che porti nella nostra terra che purtroppo non è sempre così onesta e pulita come invece noi vorremmo. Fra Elia viene da una famiglia umile ma molto onesta. Io ho conosciuto la sua povera mamma che purtroppo non c'è più, ho conosciuto il papà che lo viene sempre a rincontrare anche con un'età avanzata, ho conosciuto la sua famiglia. Lui è molto amato anche nella sua città, nella sua Puglia, che lo aspetta ogni volta che lui va giù. Lui è amato ovunque per la sua grande semplicità, la sua bontà d'animo, anche perché quando entri qui esci poi che sei in un certo senso più serena, più tranquilla, più ripulita dalla sporcizia che io dico sempre di trovare all'esterno, perché purtroppo non è sempre che troviamo rose e fiori umano. Fra Elia raccontaci tutto quello che tu vorresti di meglio per questo 2017, per tutti noi, ma anche per te, perché tu pensi sempre a noi, ma io ti dico sempre che nessuno ti dice, tu dici come stai Claudia, Maria, me mi dici, ma mai, io sto bene, io sto bene, perché tu hai questa tua missione, però che cosa vorresti per tutti noi, ma anche per te, da questo 2017? Non vorrei più le guerre, non vorrei più tutte queste uccisioni, non vorrei più tutte queste cose che succedono nel mondo, ma vorrei la vera pace, la vera pace è come un treno che cammina su un mirario e ti porta a sua destinazione, e quando scendi c'è la tua casa, c'è la tua famiglia, il tuo amore, è la tua accoglienza, è tutto. Questo, chiedo al Signore, la pace, la vera pace nel mondo, la vera pace nel mondo, come Lui l'aveva già prescritta all'inizio, ma io spero che questa pace avvenga, venga la pace quando, come si dice, quando esplode un vulcano, c'è una guerra, siamo tutti terrorizzati, chi muore, chi ha paura, e questo vulcano comincia a salire, a salire, a salire, a salire, esplode. Per me è grazia, perché quando una persona arriva a esplodere, la preghiera arriva nella grazia di Dio, è pace. E poi di così tutto si mette con la tranquillità. Allora io vi dico, stiamo sereni, Signore, nel 2017 io chiedo la pace, io chiedo la conversione dei politici, perché conversione non ne hanno, è una lite tra di loro, ma che se la vedono loro, ma a noi non ci interessa nulla, perché chi li conosce? Io non conosco nessuno, io conosco Dio, io conosco la grazia e l'amore di Dio, e di tutte le persone che vengono, che sono arrabbiate con il mondo, mettergli nel loro cuore quella fiammella di dire, stai serena, è come te, trao, devi dire, stai serena e devi andare avanti, se nella brutta e nella buona sorte, non ti devi preoccupare, ma devi crescere il tuo figlio, e lo devi portare con i sani principi, perché un domani lo devi consegnare a Dio. Tutto qua. Parli di figli, raccontaci quello che sta succedendo all'estero, e cosa tu stai facendo per dei bambini che sono molto sfortunati. So che tu sei molto geloso di queste cose, perché non sei un ciarlatano, non ti piace parlare, non ti piace parlare, ma di fare i fatti. Però con la grande amicizia, con i bambini bisogna crescerli, mi piace che tu dica ai nostri, amici, alle nostre amiche, quello che vorrai fare, qual è il tuo pensiero, perché magari non tutti sanno, qual è quello che tu vorresti fare, quali sono gli obiettivi per la tua casa. Questa domanda la faccio a te. Se tu fossi piccola, chi vorresti vedere? vorrei vedere arrivare ad essere anziani. La mamma e il papà. La mamma e il papà. Perché i bambini hanno bisogno della mamma e del papà, non hanno bisogno di vedere, hanno bisogno di sentirsi coccolati, hanno bisogno di sentirsi abbracciati, hanno bisogno di sentirsi, di dire, ho bisogno di te mamma, papà. Sì, povera sventura, i bambini non si buttano, i bambini non si gettano, i bambini non si ammazzano, guai, non mi vorrei trovare di fronte, dentro quella persona che butta i bambini, di fronte, quando arriverà il momento di vivere. No, è una cosa bruttissima, guai, bambini bisogna crescerli, amarli. E amore vuol dire, fai via, quello che tu fai tutti i giorni. Tutti i giorni. Possiamo far vedere quello che tu hai fatto con amore, la chiesina, la cappellina. La cappellina. Guardare il bambinello e guardare i bambini, i nascitori che vengono al mondo, provate a immaginare Maria, nel momento quando l'ha messo al mondo, figlio di Dio. Provate a immaginare voi donne, mamme, che quando vengono al mondo, come vi sentite? E non li gettate. Il Signore non è stato rinegato. Il Signore è stato accettato, abbracciato, amato, adorato. Eccolo qua. E così i nostri figli, così i vostri figli, i figli dei nostri figli, che verranno. Li dobbiamo educare, dobbiamo dargli tanto amore, li dobbiamo spiegare come mai è nato, come mai è qua. allora una persona nel cuore si riesce a capire la sofferenza. Perché ricordatevi una cosa, il parlare tanto non ha fatto mai bene a nessuno. sono i gesti. E il silenzio che ti fa muovere. I gesti fatti in silenzio, quelli che tu fai tutti i giorni e per noi, per noi tutti. Tu, fra Elia, sei qui e ci hai donato questi, questo, quello che stai facendo. Quello che tu fai con grande amore, con grande passioni e con grande amicizia, che è quello che io ti ringrazierò sempre. Questo bambino ha un sguardo al futuro, come quello che dici sempre tu, pensare agli altri con quel silenzio che purtroppo anche per chi come me magari si trova a ricoprire degli incarichi che tu sai benissimo, lo faccio sempre con grande gratitudine sapendo che se non c'era il Signore che mi portava su una strada e anche conoscere persone come te e te ne ringrazio per poter aiutare le persone più deboli, più fragili, quelle persone che veramente dalla mattina alla sera non sanno se domani a sera o domani mattina potranno avere da mangiare nel loro piatto, non sanno che cosa fare, non sanno, fra il via, se è così importante la vita, invece la vita è tanto importante, è quello che tu ci insegni, che ci insegna questo presegue. Per te vita, fra il via, è stato tutto quello che tu hai dato a tutti noi e ci darai sempre. Per te la tua vita, fra Elia, hai pensato che avresti fatto quello che avresti fatto o invece da bambino? non avevo pensato a tutto questo, non avevo pensato, è stato tutto gradualmente, un passo alla volta, tutto piano piano, una risposta alla preghiera e poi la risposta, quando ti chiami, devi sapere rispondere e quando dentro una famiglia ci sono delle domande, hai bisogno della risposta? a me l'unica persona che mi dà la risposta è lui. Vengo qui dentro, devo pregare, delle volte c'è un dialogo che devo parlare, devo parlare perché devo capire, voglio sapere per non sbagliare. Quel dialogo, fra Elia, che tutti ti chiamano a dare, è preghiera, è preghiera, è preghiera e la preghiera dopo va andata, devi essere svistata così. Viene donata da lei con tutto quello che fai per tutti noi, sempre. Quella parola, fra Elia, che tu ci insegni e che tu vuoi che noi portiamo avanti, anche nel conoscere chi è fra Elia come stiamo facendo oggi, perché è giusto che si conosca quello che tu fai e che tu fai in silenzio, come hai detto, dovrebbe anche che la gente sappia quello che è. Fra Elia, quali sono i tuoi prossimi pensieri anche per il convento, anche per le cose esterne? Guarda, non vado veloce, ma vado ad agio, faccio i passi come sono fatto pure io, non vado che devo correre, tutto quello che devo fare è un passo alla volta, i progetti dei lavori vanno tranquillamente, vanno serenamente, dalle volte si fermano, dalle volte ci dobbiamo fermare, perché quando c'è la divina provvidenza si va avanti, quando non c'è ci fermiamo, è giusto che sia così, non bisogna correre, bisogna saper ringraziare, dire signore oggi sono arrivato fino qua, ci metto un pastore, il giorno dopo ti prego. Qual è secondo te il pensiero di tutte le persone che vengono qui da te e chiedono aiuto, quando escono da qui sono uomini? non hanno la sopportazione perché c'è subito la valigia pronta, oggi la persona devono imparare a dire che ti voglio bene, ci dobbiamo perdonare, i bambini non devono soffrire, oggi abbiamo troppa libertà, troppe cose, troppe, troppo, il troppo stroppia, il lusso, quello sfrenato, che cosa pensi che non è giusto, che ci sia chi ha tutto questo lusso, non capisce più che cosa può. Io non lo so cosa significa perché questo lusso quello che tu mi stai dicendo non lo sai cosa ti dico, ti ripeto la stessa parola, ti dico dai a Cesare quello che diceva, dai a Dio quello che è un'oppettativa, è giusto che sia così, perché lui è nato nella povertà, è a noi che viviamo qui con la Divina Providenza, sappiamo che cos'è, andiamo avanti tranquilli e sereni e non pensiamo ad altro, non ci vengono i grilli e non ci devono venire tra la testa, perché se non ci vengono i grilli allora possiamo dire che il lusso non è pace, caso da dire, il lusso è quello che magari uno pensa di avere materialmente ma dentro il cuore non hanno nulla, non hanno, hanno la tristezza, sono bugiardi, senti Frailia, io ti ringrazio tantissimo, di cuore per lei, da questo bellissimo luogo vogliamo fare tanti auguri partendo dalle persone più deboli, più fragili, quelle persone che hanno bisogno di una margola e di un gesto di gentilezza, una parola la può dare Frailia perché è molto più bravo di me, un atto di gentilezza cercherò e cerco di darvelo anch'io. va bene Frailia. Ti ringrazio, ti ringrazio e vi vorrei dire ricordatevi tutte quelle persone che sono lontane, che non pregano, che non dicono che non hanno tempo, c'è più tempo che vita ed entra quel tempo devono trovare dieci minuti di preghiera, dieci minuti, non chiedo di più, i dieci minuti che ti aiutano a cambiare la tua vita e a farti riflettere chi è Dio per me o Maria. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, ringrazio il mio amico Frailia per tutto quello che sta facendo, non solo per me ma per tutti noi. Buon anno a tutti e grazie. Buon anno.